Ciao, che si dice? La polizia ti ha seguito qui. Sei sicuro? Va bene. Parliamo di affari. Mia figlia si sposa presto. Si chiamo Francesca. Ho bisogno che tu andai sulla sua fidanzata. È uno sfigato. Stai zitto! Assicurati che non stia nascondendo nulla alla famiglia. Ha detto che è un ingegnere. Ma non gli credo. Penso che sia un membro della vecchia banda di Five Points. Penso che questo lavoro sarà perfetto per te. Ho solo bisogno che tu lo spaventi. Non mi piace la competizione. Soprattutto in famiglia. Picchialo. Abigalo a parlare. Hai uno ferro? Va bene. Capisci? Get the fuck out of here.